Buon Santo Stefano, mi vedete? Ho voluto fare questo video a Reti Unificate, Facebook e Instagram per spiegare in modo più compiuto il mio pensiero e la posizione dei City Angels sulle polemiche di questi giorni. Oggi sono al centro d'accoglienza dei City Angels in via Pollini a Niguarda, qui ospitiamo 50 senza tetto. Ecco, spero che si riesca a vedere bene. Sono senza mascherina perché sono distante da tutti quanti e voglio guardarvi in faccia. Questo è il peggior Natale della mia vita. Ieri pomeriggio ero da mia madre, mia madre che ha perso mio padre in aprile, e ho cominciato a ricevere messaggi, ricevere messaggi su Facebook, ricevere messaggi su Instagram, su Messenger, mail, di insulti, di minacce, di offese. Vi siete venduti a Salvini, quanto vi ha pagato Salvini. Alcuni hanno scritto, mi fai schifo, se ti vedo per strada ti ammazzo di botte. Una cosa terribile. E purtroppo non sono riuscito a prestare la debita attenzione a mia madre perché cercavo di capire cosa fosse successo. Ho chiamato la mia amica Daniela Iavarone e mi ha spiegato. Lei è nostra madrina dal 2004. Una persona meravigliosa. Daniela Iavarone per me è come una sorella. Daniela Iavarone, presidente degli Amici della Lirica, dal 2004, è madrina dei City Angels. Da 30 anni lei è amica di Salvini da tanti anni. Non gliene frega niente di politica, come non me ne frega nulla neanche a me. Semplicemente ha detto dai Matteo vieni con noi a portare i pacchi agli anziani soli. Non hai senza tetto agli anziani soli. Senza dirmelo, come lei ha anche dichiarato, ha fatto questa ingenuità. Se me l'avesse chiesto avrei detto no. Ora, questa è la prima cosa che voglio premettere. Voglio ribadire. Io non sapevo quello che è successo. Daniela Iavarone ha fatto un'ingenuità, ma una persona che va valutata per tutte le belle cose che fa. Lei aiuta tantissimo i City Angels, altre associazioni. Daniela Iavarone, per me è una sorella, è una donna meravigliosa e le sono molto grato. No, non abbiamo fatto politica. Noi siamo fuori dalla politica, caro amico che scrive qua. E se vuoi sapere come la penso, premesso che i City Angels sono politici apartitici, i miei valori io li ho ricavati da mio nonno Mario. Io mi chiamo come mio nonno che era partigiano. Mio nonno Mario è stato un leader partigiano delle Brigate Garibaldi. Mi è stato perseguitato dai fascisti. Lui mi ha insegnato il valore della libertà. E sono anche presidente di un circolo dell'Associazione Partigiani. Quali sono i miei valori? I miei valori sono questi. Molto distanti da quelli di Matteo Salvini. Io non sono per niente nazionalista, sovranista. Io sono internazionalista. Per me non ci dovrebbero essere barriere, non ci dovrebbero essere frontiere. Io mi sento cittadino del mondo. Sono per gli Stati Uniti, non dell'Europa, ma del mondo. Qualcuno scrive, ma tu sapevi che Salvini sarebbe venuto? Quando qualche giorno fa qualcuno mi ha detto, ma Salvini viene per il vostro evento di Natale? Il nostro evento di Natale è la preghiera interreligiosa al Memoriale della Shoah. E non era stato invitato lì. È una cosa che facciamo tutti gli anni. Lì non c'era Salvini. Salvini invece è andato con la nostra Daniela. Ora, premesso tutto quello che ho premesso, e premesso che i miei valori sono distanti da quelli di Salvini, voglio aggiungere un'altra cosa. Noi da sempre abbiamo politici che vengono a vedere quello che facciamo. Due anni fa in campagna elettorale, alla nostra Osi del Clochard, è venuta a trovarci Di Maio. E ci ha fatto piacere. Salvini, dopo essere venuto da noi a Natale, è andato presso un centro di tossicodipendenti, è andato dal scivescovo di Milano, e è andato a pranzo con i poveri dell'opera Cardinal Ferrari. Ha fatto male? No, secondo me ha fatto bene. Qualunque politico, Salvini e gli altri, non vanno criticati se fanno del bene, vanno criticati per le idee sbagliate che portano avanti, se fanno del male.